Carmelo De Rosa, Puglia Promozione. C'è tanto fermento sui Monti Dauni nonostante i mille problemi che attanagliano questo territorio? I Monti Dauni sicuramente sono una destinazione turistica molto giovane per la Puglia, una destinazione che ha tanto potenziale ancora da esprimere e sulla quale è necessario investire. Puglia Promozione, ma la regione Puglia in genere è attenta ai Monti Dauni, lo si è visto dai finanziamenti che sono stati intercettati da questo territorio. Dal punto di vista della ricettività i Monti Dauni stanno crescendo, dal punto di vista degli arrivi e presenze altrettanto, ma oggi è necessario parlare al di là della quantità, della qualità. Sicuramente i Monti Dauni possono candidarsi a eccellenza di un turismo sostenibile e per sostenibilità intendiamo sostenibilità ambientale, economica e sociale. I Monti Dauni si stanno caratterizzando sempre più per un turismo lento, dedicato all'aria aperta, al trekking, ai cammini, al turismo religioso, al turismo enogastronomico, al turismo culturale. Su questi prodotti si può lavorare, si deve lavorare, perché la tendenza ovviamente per gli anni a venire sarà quella, un lavoro serio e costante sui prodotti turistici. Al netto del fatto che la Daunia, come altre località, come altri territori della nostra Italia, hanno bisogno di infrastrutture primarie, sociali e di benessere, c'è in questo territorio un'energia straordinaria di persone, di storie, di paesaggio, di tradizioni e insomma un patrimonio inesauribile dal quale prendere forza per progetti futuri. Qui come altrove ho trovato amministratori appassionati, profondi conoscitori del loro tessuto sociale, della loro storia, che sanno interpretarlo in una chiave innovativa e futura, che può essere la chiave di sviluppo del territorio. Purtroppo lo Stato italiano continua ad ignorare i piccoli paesi. Guardi, questa è una cosa incontrovertibile ormai, lo abbiamo verificato con i vari bandi che sono usciti a partire appunto da questo PNRR, che ha tenuto in pochissima considerazione, se non nulla, la forza dei territori e i bisogni dei territori stessi, ma per i bandi che sono stati emanati non abbiamo intravisto alcuna visione di sviluppo dei borghi e neanche la consapevolezza che siano la spina dorsale del paese. Lo ricordiamo sempre, senza i borghi l'Italia non può essere Italia.